Selvaggia Lucarelli ha definitivamente archiviato la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle e si appresta a partire per una vacanza con il fidanzato Lorenzo Biaggiarelli. Prima però ha risposto a qualche domanda posta dai suoi follower di Instagram, non potevano mancare domande sui colleghi e sul cast del programma di Millie Carlucci. A chi le ha chiesto perché Caroline Smith abbia improvvisamente iniziato a provare antipatia nei suoi confronti ha risposto, non è improvvisato. Alla prima edizione ho dovuto lamentarmi perché metteva l'IKEA la gente che mi insultava. Mi ha sempre sofferta. La giornalista ha avuto da ridire anche su Anastasia Cusmina, maestra accoppiata a Lorenzo Biaggiarelli. Anastasia Cusmina ha detto che hai scaricato su di lei la colpa. Le ha fatto notare un utente e la sua risposta non si è fatta attendere. Ci deve ancora spiegare perché piangere e andare davanti a una telecamera lamentandosi perché un concorrente sempre gentile che conosce da pochi giorni non la porta fuori dopo le prove. Direi che è stato un discreto omicidio, suicidio. Ma non penso che sia responsabile di tutto quello che è successo. Figuriamoci. Mi dispiace perché io e lei eravamo in buoni rapporti da anni e Lorenzo era entusiasta di ballare con lei. Comunque gli ha chiesto scusa. La giurata di ballando ha poi svelato quale sarebbe stata la sua classifica finale. I più bravi per lei tecnicamente erano Gabriel Garco, Alessandro Egger e Biaggiarelli. Quello che invece per lei è cresciuto di più durante il percorso è Alex Di Giorgio. Infine per chiudere il capitolo ballando con le stelle ha detto che la persona a cui giova di più la vittoria di Luisella Costamagna è il suo maestro Pasquale Larocca, per il curriculum. Mentre Di Simone Di Pasquale, danzatore che in più occasioni è elogiato dal punto di vista professionale e umano, ha detto che è in un ruolo che lo mortifica perché è molto intelligente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.